Re-infezione Ci sono due tipi di re-infezione, una che avviene entro i tre mesi dalla prima infezione e una che avviene dopo i tre mesi dalla prima infezione. Solitamente il primo tipo, ossia quello che avviene entro i tre mesi, è la prosecuzione della prima infezione. Il virus dopo aver dato una iniziale malattia o dopo aver infettato la persona in maniera asintomatica si nasconde in un santuario e nel giro di qualche settimana torna attraverso uno stimolo ancora non chiaro a fare sentire la sua presenza provocando una più violenta malattia covid. Perché è più violenta questa malattia covid? Lo vedremo dopo. La seconda infezione che si ha invece dopo i tre mesi solitamente è una infezione da un nuovo virus o da una nuova variante. Se la reinfezione entro i tre mesi è la prosecuzione di una prima infezione, essa è oltre che più violenta. A causa di una sovrapposizione di infiammazione su infiammazione, senza escludere il raro fenomeno ADE, vuol dire che il soggetto reinfettato ha già gli anticorpi e quindi in questo caso la vigile attesa raccomandata dalle agenzie del farmaco è un errore importante. La maggior parte delle reinfezioni sono comunque di questo tipo, cioè reinfezioni a tre mesi dalla prima infezione. Allora in questo caso non solo non ha un razionale la vigile attesa, ma è giustificata una forte immediata aggressione terapeutica della malattia infiammatoria. Le reinfezioni oltre i tre mesi dalla prima infezione, come abbiamo già detto, sono infezioni di un nuovo virus, come può esserlo una variante. Esse tuttavia, rispetto alla prima, sono estremamente rare. Parliamoci chiaro, in medicina il 100% non esiste e anche nel nostro gruppo Facebook c'è una persona che ha avuto una reinfezione, seppur trattata a domicilio, ad un anno. Queste però sono le linee generali che sta indicando la letteratura in questo momento. Ma perché le reinfezioni dopo i tre, sei mesi sono così rare? Perché non esiste solo l'immunità anticorpale, la quale comunque si è dimostrata più protratta di quanto si pensasse in un primo tempo, ma c'è soprattutto la violenta reazione cellulomediata, capeggiata dai linfociti T, i quali sono anche responsabili della violenza, della reinfezione entro i primi tre mesi. E questa reazione anticorpale non è diretta contro solo ed esclusivamente la proteina Spike, ma anche altre proteine del capside. È come se la nostra memoria immunitaria tenesse presente tutte le componenti del virus e fosse pronta a distruggerle. Quindi non esiste solo la proteina Spike. I anticorpi neutralizzanti potrebbero non essere solo quelli contro la proteina Spike. Infatti, nell'infezione del sud-est asiatico SARS-CoV-1 è stato visto che l'immunità durava oltre tre anni. I vaccini, a loro volta, come ammesso anche dal CEO di Moderna e come è stata fatta esperienza, seppur in casi rari, può non coprire una nuova infezione, soprattutto una variante. Ma queste reinfezioni, come quelle del primo tipo, sono trattabili anch'esse con un'aggressione precoce dell'infiammazione. Dopo i tre e sei mesi, il destino dei vaccinati sembra sovrapponibile a quello di chi ha fatto la malattia COVID, ossia immunità di memoria permanente. Questo presuppone anche che potrebbe non servire il vaccino ai malati post-COVID. Quali sono i limiti di queste ipotesi? Il virus allora varia nel santuario e allo stesso modo all'interno non solo della persona, ma di una stessa comunità? È difficile, ma non si può escludere. Secondo limite. Ci sarà una quarta e quinta ondata? Il professor Garattini, seppur in maniera più tenue, suggerisce di non abbassare la guardia, in quanto una quarta e quinta ondata potrebbero proporsi. Pertanto, alla luce dei suggerimenti della letteratura scientifica che abbiamo sviluppato fino ad ora, in una eventuale quarta e quinta ondata, noi dobbiamo tenerci pronti non solo e forse non tanto per una nuova campagna vaccinale, quanto piuttosto per organizzare meglio una aggressione precoce della malattia infiammatoria sul territorio. È il territorio, il vero punto nodale, che ci permetterà di uscire da questa situazione.